buongiorno ragazzi e buongiorno al mio grande amico giovanni cumio giovanni mi hai chiesto di fare questo straordinario brano di dimmarti degli anni cinquanta dezzamore a prima mattina non mi riesce facile cantare però il mio tempo a disposizione provo a farlo e speriamo ti piaccia e speriamo che piaccia anche al gruppo per la Grazie a tutti 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 Grazie a tutti